Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic E benvenuti in un nuovo video Software Oggi vogliamo parlare di una marea Di programmi inutili che installate Sui vostri PC che siano fissi o notebook E di soluzioni che potreste utilizzare Per andare a Appunto togliere questi programmi stupidi Stupidi no, perché ovviamente Li usate per demolitivazioni, però comunque Che appesantiscono i PC Ma il focus principale di questo video Saranno gli RGB E voi dite, cosa c'entrano gli RGB? Ah, c'entrano sempre gli RGB con i programmi Ma prima di questo Il video di oggi è sponsor By Wookies Che in questo 2023 ci accompagnerà Con l'acquisto delle licenze Windows Come ormai fa da anni E non solo Windows, perché lo sapete Su Wookies con il nostro codice sconto PD20, ormai leggendario Avrete il 25% Su tutti i software che potete acquistare Sulla piattaforma, quindi in primis Windows sicuramente, ma anche Tutta la suite di Office La procedura ormai la sapete Basta inserire PD20 nel campo codice promozionale Che trovate una volta entrati nel vostro carrello Per vedere subito lo sconto applicato al totale Per esempio potrete recuperare Windows 10 Nella chiave digitale a 15 euro Già scontata con il nostro codice Che ovviamente può garantirvi l'aggiornamento gratuito Anche a Windows 11 O direttamente una chiave di Windows 11 A poco più di 20 euro Ma anche Office Che inserendo PD20 a carrello Potete recuperare a poco più di 40 euro Nella sua versione più aggiornata sul sito Quindi scegliete il prodotto Aggiungete a carrello Poi inserite il codice sconto E da lì potete selezionare PayPal o il metodo di pagamento che preferite Come sempre tutti i link utili Li trovate qua sotto in testa Alla descrizione Quindi fateci un salto E fateci sapere se avete acquistato qualcosa E noi torniamo al video Ormai da anni a questa parte Anni letteralmente Se probabilmente anche una decina buona Ormai sì Il mondo dell'hardware si è evoluto Sempre di più in favore dell'estetica E lo sappiamo benissimo Tanti sono sempre più appassionati Tanti vogliono mostrare sempre di più il PC A chi non si sa Perché alla fine non ci giocano in una cameretta buia Quindi non lo vede nessuno Che sia un portatile, un fisso Ormai la maggior parte di PC hanno dei LED al loro interno E noi lo sapete come la pensiamo Secondo noi è una spesa totalmente inutile Soprattutto nel fisso Poi chi vuole può farla anche noi Comunque abbiamo Io ad esempio ho un PC che è un albero di Natale Per cui ci sta Però se guardi Dovrebbe essere uno strumento Però ovviamente anche la macchina è uno strumento Che dovrebbe portare ad un punto A o un punto B E non mi pare che tutti abbiano macchine a 10-15 mila Anzi Ma mi pare proprio il contrario ecco Il discorso qui è che siamo arrivati a un punto A livello estetico In cui non ne puoi più fare a meno Quindi quello che diciamo noi da anni Ovvero che sono cose futili, inutili Diciamo il lato estetico, il lato RGB Per quanto riguarda un PC Oramai non ne puoi più fare a meno Se fai un PC Ma oramai da qualche anno a questa parte Perché non solo la fascia alta Quindi tutto quello che è un discorso Magari di utente più enthusiast Che ha più soldi da spendere Quindi ci sta che abbia anche qualcosa di più A livello estetico Ma anche la fascia media se non la fascia bassa Anzi da qualche anno è addirittura cambiato il paradigma Ora gli RGB non sono neanche la fascia alta Ma sono diventati la fascia media e la fascia bassa La fascia bassa hanno gli RGB Perché sennò non vendono Solo di qualità bassa Messi male Gestiti ancora peggio La fascia media erano i vecchi RGB di fascia alta Ormai appunto la fascia media ha l'RGB Quello che noi pensiamo come tutte le illuminazioni La fascia alta e gli RGB non ce li ha più O comunque sono solo un contorno Ce li ha Perché ovviamente non mancano Ma la fascia alta è il display Ormai se guardate tutte le MOBO di fascia alta Hanno il display al loro interno Se guardate tutti gli All-in-One di fascia alta Hanno il display al loro interno Addirittura i case Per non parlare adesso anche i case Hanno il display al loro interno O hanno mod come l'Y60 Per installare case al proprio interno Ma addirittura le schede video alcune Quelle top come l'All of Fame Hanno i display Proprio perché la moda di questo momento Appunto mettono un display ovunque La Godlike, la scheda madre Ve la vendono addirittura con un cavo USB Con un display OLED 1900 euro di scheda Quindi addirittura gli RGB ora Sono la roba di media La roba di fascia media bassa E questo non solo nel PC gaming Classico col cassone TX, Mini TX e così Ma anche sui notebook da gaming Ovviamente Con un notebook in generale Windows Con sempre più collaborazioni Anche lato periferiche Che ovviamente nel notebook sono integrate Quindi hanno magari tutte le tastiere personalizzabili Con tutte le periferiche Tutti i contorni di estetica possibili e immaginabili Quindi non è solo più un discorso legato Appunto al mondo del desktop Come è stato fino ad ora Con tutte le periferiche del caso E tutto quello che puoi mettere dentro il PC Ma è un discorso proprio del PC gaming in generale Questo cosa vuol dire? Milioni, milioni e milioni di PC Notebook o fissi Con preinstallati programmi Inutili E fatti col culo Di delle diverse case Per controllare l'RGB Ovviamente Programmi Che non sono fatti da persone Lasciatemi Passatemi il termine Specializzati Nello sviluppo software Ma sono semplicemente Dei piccoli software Dei piccoli eseguibili Nella maggior parte dei casi In buona parte dei casi Che servono solo a quello Quindi Non solo appesantiscono Perché magari sono scritti Anche in maniera abbastanza Grezza Male Ma in più Dato che non tutti Anzi probabilmente nessuno Si fa il PC monobrand Sono anche di più di uno Per cui probabilmente Se fate un PC oggi La scheda madre la prendete MSI La scheda video la prendete Gigabyte Il dissipatore Corsair E tutto quello che ne consegue E le periferiche Razer Avete quattro software installati Così Proprio Non ci vuole niente Magari quattro E solo qualcuno Che se ne intende un po' meno Si fa Proprio prendere dall'RGB Ma due Altamente probabile Che la maggior parte li abbiano Beh periferiche E interno del PC Quasi sicuramente Per cui E questo fino ad oggi O perlomeno Non proprio fino ad oggi Però Da ormai anni A questa parte Era obbligatorio È stato obbligatorio Cioè non potevi Trovare scappatoie Cioè o ti installavi I software proprietari Per gestire E sincronizzare I tuoi LED O altrimenti Ti attaccavi O al massimo C'erano gli Aura Sync Di turno O altri Che integravano altri Ma non sono mai stati Compatibili con tutti Esatto Perché ovviamente Ci sono le guerre Tra ovviamente Le case che non vogliono Perché vogliono mantenere Soprattutto quelle che fanno Tutte come Asus MSI O Gigabyte Vogliono mantenere Un'uniformità Del proprio sistema In modo tale Da non darvi la possibilità Ma comunque ragazzi Mentre giocate Fa tutto Brodus Io ho 18 Programmi aperti E poi è difficile Andare a lamentarsi Le prestazioni Perché quando noi vediamo Gente che ha problemi Di prestazioni di videogiochi Tralasciando il fatto Che è molto probabile Che abbia una 3080 E un i7 4007 Perché anche quello Succede spesso Però poi Non andiamo a vedere Cos'altro ha aperto E molte volte Ce ne ha 3 o 4 o 5 Di queste robe aperte Quindi Bruciateli Assolutamente E adesso vediamo Le soluzioni Che poi anche lì Se uno ha un pc Enthusiast Di fascia alta Magari gliene frega Anche relativamente Ma nella fascia media Appunto no Ora come ora E appunto Anche già Qualche tempo fa Vi abbiamo portato Dei contenuti A proposito Esistono soluzioni Per uniformare Tutto il proprio pc Non solo quello Che c'è all'interno Ma anche tutte le periferiche E sincronizzarlo In maniera decente E probabilmente L'esempio migliore Su tutti È Signal RGB Abbiamo fatto anche Un TikTok Un reel Su questo programma Perché? Perché c'è Un'estrema domanda Di queste tipologie Di sistemi E programmi Perché un qualcosa Di leggero Fine Che possa essere Integrato In tutti i sistemi È qualcosa Che molti agognano Ma in realtà Questo non è Poi così minimal Perché ha Tutta una serie Di personalizzazioni Al suo interno Che appunto Permettono Non solo di Sincronizzare Tutte le periferiche Ma anche Riprodurre Degli effetti custom Quindi addirittura Andare magari A creare Un effetto E una composizione Di come viene Riprodotto Dalle varie periferiche Completamente custom Quindi vi spostate Proprio le RAM La scheda madre Il dissipatore La tastiera Il mouse Eccetera eccetera Come volete Che appaiano Gli effetti di luce Oltretutto Signal ha una bellissima Community dietro Dove potete scaricare Una marea Di possibilità Di combinazioni Allucinanti Dove poter Far diventare Veramente Un albero di Natale Più strano Il vostro PC Ed è veramente Compatibile con ogni cosa Noi abbiamo fatto Anche il test Con Robasus Con Roba Corsair Con Roba Di tutte Tutti insieme Le ha riconosciute subito Infatti anche Anche nel TikTok Appunto Mostravamo proprio Gli RGB di Corsair Che non mi ricordo Come si chiamano La banda LED La banda LED Che funzionava direttamente Con altre cose Di altre marche Probabilmente Non tutto viene riconosciuto Nel senso che non vi dice Come si chiama La periferica XYZ Ma se qualcosa è collegato O con l'USB O tramite gli header RGB Ve la prende Ve la riconosce Quindi voi dite Ah ok basta Signal è perfetto La cosa giusta da fare È il programma perfetto Beh assolutamente no Di fatto Vi Comunque è un programma Sicuramente meglio fatto Sicuramente qualcosa Di più fine Più raffinato Se vogliamo dire Ma alla fine È solo qualcosa Di più raffinato Di quello che avevano scritto dietro È sempre un programma E Esatto Esterno La notizia di questi giorni È che è abbastanza sconvolgente Perché è qualcosa Che potrebbe letteralmente Cambiare Il mondo del PC Di come lo utilizzi È che Windows 11 Integra Sembra Stia integrando Direttamente in Windows Un controller RGB Sì Avete capito bene Dentro Windows 11 La cosa sconvolgente È che fino ad oggi Windows se ne è sempre Tra virgolette Un po' fregata Di questo ambito Appunto Essendo molto più legato All'estetica Molto più magari Al tipo di configurazione Anche come dicevamo A inizio video Ora come ora Però appunto Come dicevamo Non si può più ignorare Perché è la prassi È lo standard In un certo senso Poi noi guardiamo il mondo Da un occhio sbagliato Nel senso che Il PC gaming Sicuramente Era anni fa Comunque Non nullo A livello di numeri Però è ovvio che Sulla maggior parte Dei sistemi Windows Erano laptop E prodotti Per lavorare Che non avevano RGB Quindi era una funzione inutile Cosa che è cambiata Negli ultimi anni Come abbiamo detto Solo stima 120 milioni Di utenti attivi al mese 120 milioni Di questi dentro C'è una marea di portatili Una marea di fissi E oltretutto Come sapete Cioè Dentro questo numero Non conta Ad esempio League of Legends Riot Che solo loro Non conta un sacco di cose Non conta una marea Di altri store Di videogiochi Che hanno una marea Di utenti mensili al mese Quindi Pensate solo a Riot O Blizzard Cioè Bravo Quanti utenti fanno E quindi Questo Porta sicuramente Ha un coinvolgimento diverso I numeri del PC gaming E lo vedete Dalle notizie Che vengono fuori Che Steam batte Ogni tre giorni Tutto ovviamente Fa dire a Microsoft No aspettate allora E giù Forse è il caso Che interveniamo Perché ovviamente 4-5 anni fa Questi numeri Non c'erano Quello è sotto gli occhi di tutti La cosa nuova È che Microsoft Dal suo punto di vista Dal suo sistema operativo Già sta facendo cose Da qualche anno A questa parte Per ottimizzare Il mondo del gaming Lo abbiamo visto Con la Game Bar L'abbiamo visto Con il Direct Storage Con tutta una serie Di ottimizzazioni Anche per Migliorare le prestazioni Questa è la prima Tra virgolette Miglioria Che implica In qualche modo Il livello estetico Del PC Quindi che esula Dal sistema operativo In un certo senso Sì La quality of life Deve sicuramente Aumentare per un gamer Ovviamente Questa sarà Forse Non lo sappiamo Per il momento Sono solo indiscrezioni Un'integrazione In Windows 11 Quindi verosimilmente Anche come parlavamo Anche nella settimana scorsa In Windows 12 Probabilmente Però non sappiamo Come sarà Implementato Anche perché Ovviamente La paura è che sia Magari solo Qualcosa C'è di spegni O che sia Magari qualcosa Che non ti permette Di controllarlo bene Noi infatti pensavamo Più che un'applicazione Come dai primi rumor Come si vede Che sembra qualcosa Direttamente Proprio nelle impostazioni Nuove di Windows Pensavamo ai Power Tool Piuttosto Esatto Esatto infatti Qualcosa che fosse Più una versione Tra virgolette Beta Per chi voleva Sperimentare Una funzione aggiuntiva Come stanno facendo Ormai da anni Con i Power Tool Appunto Che di fatto Sono tutta una serie Di piccole trick Di piccole funzionalità Che magari esistono In altri sistemi operativi Vengono provate Anche su Windows Tramite sviluppatori Che fanno delle beta Letteralmente Non subito implementata Sul sistema principale Per noi la speranza È assolutamente questa Cioè che Poter liberarci Di tutti quei software Del cavolo Che vanno solo A rompere le palle Che poi alcuni Tipo Corsair C'ha pure Alcune cose carine Come Che in gioco Quando c'è Quando ci sono delle situazioni Il PC prende il colore Esatto Del gioco Sicuramente sono cose carine Anche Razer Si sta muovendo Sicuramente Corsair e Razer Hanno fatto le cose Un po' meglio Degli altri player Però rimane il fatto Che sono programmi inutili Dal punto di vista Vanno a ciucciare risorse E sono solo lì A rompere le scatole Pensate che noi Quando facciamo i test Brasiamo qualsiasi cosa Stiamo attenti I processi che sono sotto Attivi E basta anche Quando noi facciamo i test I programmi Che usiamo per fare i test Inficiano le performance Magari anche di piccole Ma un frame view Del caso Che è un programma Di una leggerezza Imbarazzante E fatto da invidia Non da qualche casa Che ci mette lì 5 persone E che è quello Che probabilmente Impatta di meno In assoluto Comunque qualcosina E a volte è un crash Perché a volte Ti crasha il gioco Quando c'hai frame view Quando togli frame view Non ti crasha Comunque impatta Quindi voi pensate Quindi voi pensate A programmi di questo tipo Quanto possono impattare Quanta volte Tu non ti rendi conto Ma il gioco ti crasha Non perché il gioco È fatto male Ma perché c'è un programma Stupido Che ti sta dando fastidio La cosa brutta Da questo punto di vista È che molto probabilmente Gli enthusiast Proprio per questa tendenza A mettere sempre più schermi All'interno del pc Se li terranno lo stesso I programmi Perché altrimenti Chiaramente non possono Mandare a personalizzarsi Il dissipatore Il monitor del case E ci ho aperto Ida Ci ho aperto Razer Ci ho aperto Asus Ci ho aperto Golf Capite bene Che se possiamo snellire Questa background di robe È meglio Chiaramente Fateci sapere Se avete provato Signal Che sicuramente È un programma Traghetto Traghettatore Come un allenatore Esonerato alla Pioli Speriamo che Quando uscire questo video Sare esonerato Che praticamente Praticamente Scusate Ho perso il filo Ho paesi traghettatore Ma naturalmente L'esame di Pioli Si distrai troppo facilmente Non ci possiamo fare niente Si può essere un programma Traghettatore Fino a quando non ci saranno Soluzioni integrate Che vadano a rompere Le palle dei nostri sistemi Come al solito Non dimenticate di seguirci Anche qua sotto Su tutti i vari social Telegram in primis Con le offerte Giastracket Tutto quello che volete E alla prossima ragazzi E alla prossima ragazzi